Si chiama turismo attrattivo e esperienziale e si traduce nella pulizia di strade e piazze. Del resto, come rafforzare il senso di comunità e il rispetto per il bene comune se non attraverso azioni concrete. L'Abruzzo è attrattivo se lo rendiamo tale. Il prossimo 3 maggio dalle 10 alle 11 sarà possibile partecipare all'iniziativa promossa da Feterpate e Confesercenti. L'obiettivo è quello di fare in modo che questo territorio sia più bello agli occhi del turista e lo facciamo attraverso tutte le guide esperienziali, le attività che vogliono partecipare, i comuni che hanno aderito perché l'idea è quella di accorciarci le maniche e incominciare a renderlo più bello. Parteciperanno anche alcune scuole che hanno già aderito all'iniziativa ma io penso che siano gli adulti a dover essere veramente educati perché i giovani questa educazione al tenere pulito il territorio ce l'hanno forte. Forse è un minimo di attività che vogliamo svolgere anche di consapevolezza da parte dei più adulti che quando fanno un picnic devono prendere il loro materiale e i loro rifiuti e riportarli a casa. Gli angoli d'Abruzzo dal Flash Mob elencati sul sito Abruzzo Attrattivo sono già tanti. La Via Verde, San Salvo, Vasto, Atri, Penne, dalla Lecceta di Colle Romano al Giardino, Casa delle Arti e poi ancora il fiume Sangro a Pesca a Seroli e Capestrano. È un aumento di raccolta indifferenziata per la popolazione quindi la regione Abruzzo potrebbe prendersi quest'impegno di fare degli atti propedeutici per far riconoscere queste iniziative come raccolta straordinaria e non ordinaria. Una rondine non fa primavera ma è in grado di mettere a fuoco situazioni tali da sollecitare la sinergia tra le istituzioni. Sicuramente è un'iniziativa che potremmo implementare ma il messaggio che deve uscire chiaro è che l'Abruzzo è bello se è bello per i turisti ma se è bello anche per i residenti quindi sicuramente è un'iniziativa lodevole, magari implementeremo l'iniziativa per far sì che si arrivi a quello che tutti noi vogliamo, un Abruzzo bello, pulito e attrattivo.